È stata la prima chiesa aperta in Emilia-Romagna per i credenti di fede ortodossa. La chiesa di San Basilio in via Sant'Isaia fu infatti fondata nel 1973 e ha sede nella ex chiesa di Sant'Anna dei Padri Certosini, messa a disposizione dal Comune di Bologna. La parrocchia appartiene alla giurisdizione canonica del Patriarcato di Mosca ed è sempre stata aperta agli ortodossi delle varie nazionalità, nei primi decenni soprattutto studenti, poi anche immigrati. Per festeggiare i 50 anni di vita della comunità, il Vescovo Ambrosie di Bogodorowsk, che ha sede nel monastero di Gesso a Zola Predosa, ha celebrato la Divina Liturgia in rappresentanza del metropolita Nestor di Korsun, esarca patriarcale dell'Europa occidentale. Il Vescovo è stato accolto dal parroco, padre Serafin, e dai numerosi fedeli che frequentano la chiesa. Anche il Vicario Generale della Diocesi di Bologna, Monsignor Stefano Ottani, ha portato il saluto della chiesa bolognese.